mister lucarelli che gara sarà quella di domani ma una partita da vincere una partita che che nasconde comunque come al solito tanti insidi affrontiamo una squadra che non ha mezze misure o perde o vince e quindi sappiamo che loro faranno dell'ambiente la loro forza oltre che delle qualità perché comunque ogni squadra delle qualità e ce l'ha anche monte silvano e proprio dobbiamo fare la nostra partita dobbiamo fare la nostra partita di attenzione concentrazione intensità e cercare di fare i tre punti e ci arriviamo come siamo arrivati dopo la sosta di natale un'altra settimana di lavoro cercando di proseguire quel percorso che abbiamo intrapreso un po di tempo fa anche se a fasi alterne e per dare continuità a quest'idea di provare a giocare a dare essere alti con la squadra cercare di avere la giusta determinazione perché poi soprattutto in casa ecco lo stadio veramente di grande aiuto come è stato domenica che ci ha permesso di spingere la squadra di arrivare la vittoria quanto riguarda situazioni infortuni c'è sempre era che sta facendo la sua recupero diciamo riabilitativo e non c'era almeno per altri dieci giorni e qualcun altro ha avuto qualche piccolo acciacco però tutti recuperabili per se non per domenica per mercoledì e la prossima settimana attenzione attenzione Grazie a tutti.